La participazione a un mondiale è sicuramente una bella esperienza, non so quando mi capiterà più nella vita. Peccato che andiamo a giocare discipline che nel nostro territorio non si giocano, però come ragazze abbiamo dato il massimo, quindi sono contenta. Per esempio le altre volte nel gioco internazionale siamo riuscite a cavarcela molto meglio. Nonostante il quarto posto, secondo me abbiamo fatto delle buone prestazioni. Sicuramente per ora è stata una bella esperienza arrivare quarte, comunque avendo delle buone prestazioni è stato bello. Con le mie compagnie di squadra ci si è incavato benissimo, ci è mancato quel poco per fare di più, però ci siamo giocati ogni partita. Una bella esperienza nonostante il punteggio, però può essere anche una crescita personale.